Ben trovati, ben trovati con questo speciale di tv dedicato alla scuola. Io ringrazio subito l'ospite che è la provveditrice agli studi di Avellino, Fiorella Pagliuca. La ringrazio perché è un po' redicente, è un po' restire alle telecamere, però ho dovuto insistere un poco per la verità. Finalmente ci siamo. Intanto grazie. Volevo cominciare con una scheda che dura tre minuti, una scheda che ci fa un po' di assunti di come stanno le cose ad Avellino, in Irpinia, sulla scuola. E c'è anche una sua prima dichiarazione, credo che sia stata resa a Solofra in uno degli ultimi eventi solofrani. Prego. Una popolazione studentesca di circa 45.000 unità tra infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Di questi, 18.000 ogni giorno impattano sul capoluogo di provincia. Una quota complessiva che si assottiglia però di anno in anno. Nell'ultimo decennio in media l'Irpinia ha perso nel computo materne superiori qualcosa come 1.500 alunni all'anno. E gli effetti del calo demografico si ripercuotono puntuali sugli assetti scolastici con le amministrazioni locali. E la politica regionale a fare i conti ogni qualvolta si mette mano al cosiddetto piano di dimensionamento scolastico. Una locuzione che mette insieme esigenze economiche del Governo centrale, bisogni delle comunità e necessità organizzative. Buoni propositi che solo quest'anno però sono costati alla provincia di Avellino qualcosa come 16 accorpamenti. Scuole che hanno perso l'autonomia e sono state inglobate da altre realtà più grandi. Nessuna zona dell'Irpinia risparmiata dalle aree più interne come l'Alta Irpinia e il Calaggio fino a comuni medio-grandi, solo fra esempio per tutti e per finire la città di Avellino. Al danno aggiungiamoci anche la beffa con la bellezza di 19 reggenze e istituti con presidi cosiddetti a scavalco. Fotografia attuale dell'universo scuola nella provincia avellinese dove da un anno è a capo dell'ufficio scolastico provinciale la dottoressa Fiorella Pagliuca, vincitrice di concorso come dirigente scolastico dal 2011, in carica come preside prima al Domilani di Manocalzati, poi al comprensivo Regina Margherita Da Vinci di Avellino, componente dello staff regionale per le valutazioni sui percorsi scolastici del primo ciclo, vanta più master in didattica, formazione e metodologia valutativa, inclusione, educazione alla cittadinanza, obiettivi e priorità di mandato, concetti rimarcati anche a Sorofra. Lo scorso 12 settembre, primo giorno di scuola, evento al quale ha preso parte anche il governatore De Luca. Colgo sempre più intorno a me un clima di grandissima energia, di grandissima motivazione, queste sono delle leve fondamentali per poter tutti poi davvero profondere il massimo degli sforzi, ma con gioia, perché gli alunni devono poter essere accolti a scuola come luogo della gioia, della felicità, dove far bene le cose con senso della responsabilità ma in un clima accogliente. La scuola include, la scuola integra, la scuola accoglie, la scuola ancora prima che qualunque, posso dire, determinazione politica possa dare delle linee guida, la scuola compie quotidianamente, ponendosi come avanguardia, delle scelte fortissime di inclusione e di cittadinanza. Quindi io sono orgogliosissima di appartenere a questo mondo professionale, a questo mondo davvero popolato da un'umanità straordinaria, perché i docenti, gli insegnanti e poi anche tutto il personale ATA sono in trincea, sono in prima linea al fianco di ciascuno studente e delle famiglie. Bene, provveditore, noi parleremo della scuola in generale naturalmente, perché tanti problemi della scuola al centro come in periferia, al nord come al sud, sono un po' comuni a tutti. Io comincerei proprio da qui. Un politologo decisamente molto importante e conosciuto, Galli della Loggia, ha detto molto recentemente che c'è bisogno, che è giunto il tempo, letteralmente, di avere un progetto di ripensamento della scuola, dell'istruzione, e tutto questo dalle elementari alla università. Ora, non so se lei sia d'accordo o meno con questa visione un tantino catastrofica di Galli della Loggia, però, ammesso che non sia d'accordo, quali sono, secondo lei, le criticità, i punti più critici sui quali bisognerebbe porre l'attenzione subito? Allora, grazie direttore, innanzitutto per questa attenzione riservata al mondo della scuola. Sono felice di essere qui e di portare le mie riflessioni. Dunque, la scuola sicuramente affronta una delle sfide, diciamo, più difficili. È un'epoca attraversata da una complessità, da un'imprevedibilità straordinaria. Che cosa si chiede oggi alla scuola? Si chiede di potersi interrogare nel profondo e ripensare al proprio mandato istituzionale per cercare di attualizzarlo. Questo che cosa significa? Significa chiedere io che cosa voglio essere, in che modo, cosa rappresento per gli studenti che accolgo oggi, come voglio essere trasformativa degli individui, delle società. Questo significa avere delle priorità ben chiare e cercare di provare a sfidarle, tenendo sempre ben presente che occorre comprendere che gli studenti devono poter riconoscere la scuola come questa istituzione credibile nella quale ingaggiarsi e investire tutte le proprie energie. Certamente le criticità ci sono, ne evidenzio alcune rapidamente. Innanzitutto i dati sociodemografici ci restituiscono un dato incontrovertibile. Nei prossimi anni assisteremo ad una riduzione del numero degli studenti. Questo porterà, se manterremo l'attuale sistema di allocazioni delle risorse, per risorse intendo sia quelle finanziarie ma anche quelle strumentali e professionali, e le attuali regole di funzionamento del sistema educativo, è evidente che progressivamente assisteremo ad una riduzione degli insegnanti e delle istituzioni scolastiche. Ora io ritengo che si può compensare questo callo demografico trasformando questa minaccia in una grande opportunità e dunque investendo sempre maggior numero di risorse o conservando quelli attuali anche a fronte di una riduzione del numero degli studenti. Seconda questione che per me è una criticità. È evidente che il nostro sistema educativo ha delle punte altissime in alcune aree del nostro paese in termini di dati sulla dispersione esplicita ed implicita, di abbandoni precoci, di net, nit, vale a dire giovani che non hanno concluso il percorso scolastico, non hanno conseguito un titolo di studio e non sono inseriti nel mondo del lavoro. E ancora una scarsa partecipazione degli studenti universitari all'istruzione terziaria, vale a dire percorsi universitari. Questo ci deve far riflettere e dobbiamo sempre più innalzare la qualità e l'efficacia dell'azione educativa. Terza questione, investire nel sistema educativo, investire nell'istruzione, implica investire sulle persone. Come diceva Daniel Pennac, la scuola è fatta agli insegnanti. Investire sugli insegnanti significa puntare alle competenze degli insegnanti, innalzare la qualità dell'insegnamento. Ecco, nel sistema scolastico italiano, a differenza dei propri competitor più sviluppati dell'area OX, lascia registrare alcuni dati un po' che deludono. Come è possibile che la formazione degli insegnanti risalga all'esperienza universitaria e all'abilitazione professionale, perché la formazione in servizio dei docenti non è obbligatoria. E dunque, se il contesto tecnologico, sociale ed economico è attraversato da trasformazioni davvero straordinarie nella storia dell'umanità per velocità e portata, non si spiega come non sia necessario aggiornare costantemente le competenze professionali degli insegnanti. Oltretutto, anche gli spazi educativi, la relazione educativa-didattica, implica un'innovazione costante, una capacità sempre di ripensarsi nella qualità degli ambienti di apprendimento, perché se alcune scuole, alcuni insegnanti, alcuni dirigenti sono particolarmente innovativi e percorrono sempre la strada dell'innovazione e della sperimentazione, c'è ancora un potenziale largamente inesplorato, largamente ancora inespresso, che richiede che possa essere appannaggio un po' di tutte le istituzioni scolastiche per offrire a tutti gli studenti una elevata qualità. Bene, d'ora in poi risposte un po' più brevi, ma d'altra parte l'argomento era talmente complesso e talmente complesso che richiedeva una spiegazione decisamente come lei l'ha fatta. C'è la notizia fresca di giornata, la riforma del voto in condotta che diventa legge, una legge voluta dal Ministro Valditara e da tutto il Governo. Volevo una sua opinione al riguardo, ma soprattutto finalizzata però ad una seconda domanda. Il voto in condotta, questa riforma per come è concepita, c'è una parte che è mirata a salvaguardare il personale dagli attacchi degli studenti qualche volta, delle famiglie molto più spesso, eccetera, e va tutto bene. Ecco, però in qualche modo non affronta, o meglio in tutti i modi, non affronta un altro problema, quello del disagio giovanile. Ecco, partiamo dal voto in condotta e poi magari, se mi dice qualche cosa sul disagio giovanile, cosa la scuola può fare? Certo, certo, no, assolutamente il disagio giovanile è un'emergenza, diciamo a livello nazionale, ma che interroga un po' tutti i sistemi educativi a livello globale. Parlavamo prima della complessità del reale, di questa società caratterizzata da una velocità, da una trasformazione davvero straordinaria, per cui anche i sistemi educativi devono velocemente, diciamo, proporre modelli che sappiano davvero intercettare gli studenti, con stili cognitivi, con esperienze anche familiari differenti. E questa non è una sfida semplice, è evidente che le fragilità emotive, cognitive, anche relazionali degli studenti, pongono la scuola al centro di un progetto educativo integrato che richiederebbe e richiede, diciamo, una governance tra i vari soggetti istituzionali. Quindi, atteso che la sfida è particolarmente complessa, il Ministero ha cercato di intraprendere un percorso che sia quello dell'innovazione. Ovviamente è giusto perché è chiaro che bisogna sempre poter trovare soluzioni nuove a problemi nuovi. E dunque il tema dell'inserimento del voto in condotta, che può portare a una bocciatura, induce un po', vuole avere in sé questo obiettivo, indurre i ragazzi a restituire autorevolezza all'istituzione scuola. Bene, io credo che al di là di questo aspetto, ancora più va sottolineato il valore formativo della valutazione. Gli studenti devono recuperare e guadagnare fiducia nell'istituzione scuola sul campo. Oggi non accettano più nulla per un atto di fede passivamente. I ragazzi invece hanno un insopprimibile bisogno di riconoscere, di attribuire senso e significato all'esperienza scolastica. Quando riconoscono che l'istituzione scuola è credibile, affidabile, è coerente, è paziente. Nell'accogliere anche le loro fragilità, le loro difficoltà, e non è soltanto in una posizione sanzonatoria che si pone, gli studenti si affidano. Quindi io aspico che davvero questo possa essere soltanto un elemento di ulteriore riflessione che deve indurre tutti noi a essere ancora più prudenti, dirigenti, responsabili nei consigli di classe, ma ho fiducia perché i dirigenti e i docenti sono persone altamente qualificate per attribuire alla valutazione quel valore formativo, ancora prima che sanzionatorio. Ho ascoltato una sua definizione in un'intervista che ho rilasciato qualche tempo fa, una sua definizione del mandato istituzionale della scuola. Lei l'ha definito in tre verbi, gli ho appuntati, istruire, formare, orientare. Naturalmente è una sintesi perfetta, però la domanda non è questa. Esistono due scuole in Italia, se non proprio tre, una del sud, una del centro e un'altra del nord Italia. C'è anche un giudizio molto molto diffuso, cioè che la scuola del nord istruisce, forma, orienta meglio di quella del sud. Condivide è così oppure le cose non stanno proprio così? Allora, certamente i dati che le riporta sono dati che rappresentano un'evidenza restituiteci dalle prove invalsi. Evidentemente ci sono dei divari, delle disuguaglianze sul piano dei livelli degli apprendimenti degli studenti tra l'area del nord e le isole e alcune aree del Mezzogiorno d'Italia. Ora, il problema è, cerchiamo di comprendere a cosa sono dovuti questi divari e quali sono le possibili soluzioni per colmarle. Ecco, i divari ci devono far riflettere sul fatto che gli studenti spesso che appunto sostengono le prove invalsi e restituiscono questo tipo di risultati inadeguati rispetto anche al resto d'Italia appartengono a contesti socioculturali ed economici più svantaggiati, più degradati. Quindi si comprende che queste povertà educative risalgono a delle cause che afferiscono a fattori extrascolastici. Ciò detto, questo implicerebbe di dover attivare degli interventi supplementari, aggiuntivi sia in termini di risorse e di organico, questa è la mia idea, perché i contesti più svantaggiati richiederebbero un investimento di risorse professionali ancora più pingui e in termini anche di competenze, quindi docenti formati adeguatamente proprio per prendere in carico studenti caratterizzati da queste fragilità familiari e territoriali. E poi un altro tema di questi divari è che certamente a volte sono anche il sintomo che c'è una varianza e una differenza tra i livelli degli apprendimenti degli studenti in relazione alle scuole frequentate e alle classi frequentate all'interno delle scuole. Questo è un altro tema. Dunque i dirigenti scolastici e i docenti devono sempre più lavorare quando analizziamo questi dati per poter sviluppare, promuovere modelli organizzativi che siano più equi e inclusivi proprio nel formare classi che possano essere eterogeni al loro interno per background socio-economico e culturale rispetto ai contesti di provenienza ma omogeni tra di loro all'interno di un istituto ad esempio. Se questo è il provveditrice, ho un po' di difficoltà a distinguere comunque è sempre meglio il provveditore che il non dirigente scolastico provinciale oggettivamente è insopportabile così come il dirigente scolastico locale, il preside, meglio preside, è più immediato ma se i divari sono quelli che lei ha descritto, se quella è la fotografia di questa realtà che oggettivamente non può essere negata, il divario c'è per tante ragioni che non andiamo ad indagare oggi ma la domanda è, non le chiedo come andrà a votare il referendum sull'autonomia per naturalmente bocciare questa autonomia definitivamente, almeno quella scritta da Calderoli non le chiedo come vota, però le chiedo piuttosto quando potrà incidere se dovesse passare questa riforma dell'autonomia se dovesse passare questa legge Calderoli quando andrà ad incidere sui divari che oggi già ci sono a prescindere dai LEP che sono stato un po' a mio avviso un po' la foglia di fico per far passare tutto quello che doveva passare subito Allora direttore, è una domanda che ha il pregio dell'attualità ma certamente è una domanda alla quale non è semplice rispondere perché in se per sé l'autonomia differenziata che voleva dare appunto una cornice unitaria a tutto l'articolo 116 della Costituzione prevedeva proprio che ci fosse una chiara definizione di quei livelli essenziali delle prestazioni che secondo l'articolo proprio 117 della Costituzione prevede che appunto tutti i diritti siano livelli essenziali che devono essere garantiti nelle prestazioni rispetto al godimento di diritti sociali e civili che dovranno essere uguali su tutto il territorio nazionale per tutti i cittadini italiani senza alcuna differenza ci ho detto che chiapiamo su quali parametri e su quali basi verranno definiti questi livelli essenziali delle prestazioni perché è tutto qui che si giocherà la differenza allora se noi riusciremo a portare alla luce, a mettere in evidenza le disuguaglianze, i divari, le differenze e quanto è ampia la forbice e allocheremo risorse aggiuntive per colmare quei divari evidentemente potrebbe anche essere un'opportunità l'autonomia differenziata diversamente rappresenta uno scelario disastroso che auspico il nostro paese non vorrà assolutamente fronteggiare ho azzardato così anche per parlare un poco della nostra provincia ho azzardato, poi un quale anche per le altre province una filiera scolastica di questo tipo provveditrice, ecco qui ho messo provveditrice presidi, professori, personale, ausiliari, studenti, famiglie in questa filiera che cosa manca per mettere secondo lei al centro la figura più importante che è quella dell'allievo, dello studente allora questo è un tema a me particolarmente caro perché ho sempre creduto che il protagonismo degli studenti sia al centro proprio dell'agire ancora prima del pensare dell'agire professionale di ognuno di noi far bene il proprio adempiere, il proprio mandato istituzionale che come lei diceva era istruire, educare, orientare significa mettere al centro ciascuno studente con la propria storia con il proprio anche, lo dicevamo capitale anche di fragilità emotive, cognitive con i propri bisogni con quella possibilità che ciascuno studente ha realmente di esprimere il proprio potenziale questo significa predisporci ciascuno ad accogliere ciascuno studente, e non è semplice mi rendo conto, si chiede tantissimo ai docenti bisognerebbe ridurre il numero degli studenti per classe per consentire quella personalizzazione dell'azione educativo didattica che sicuramente risulterebbe più efficace però ripeto, porre al centro lo studente credo che sia proprio indispensabile e imprescindibile se vogliamo dare senso ed efficacia alla nostra azione professionale gli studenti lanciano delle sfide perché, lo dicevamo prima vogliono poter davvero trovare il senso della propria esperienza scolastica vogliono attribuire un senso ma devono poter ingaggiarsi soltanto se credono in professori che a loro volta credono negli studenti quindi questo atto di fiducia è bidirezionale e bisogna costruire prima una relazione umana che possa essere empatica con ciascuno studente poi questo rappresenta il prerequisito sul quale costruire una relazione didattico-disciplinare e quindi davvero io focalizzerei sempre più l'attenzione sul protagonismo attivo di ciascuno studente ciascuno con la propria storia con le proprie problematiche ma anche con le enormi potenzialità C'è un problema sul quale tutti riflettono però se ne parla piuttosto nei salotti non esplode sul piano pubblico ed è il tema della dignità di chi lavora a scuola insomma sentiamo dire sempre e ne siamo convinti oltretutto che la scuola è innanzitutto importante perché crea le future classi dirigenti e però poi queste classi dirigenti che devono essere formate orientate istruite dai professori innanzitutto dagli insegnanti eccetera ma con l'ausilio dei presidi e con l'ausilio anche del personale ausiliario sul piano così economico quindi della dignità viene trattato un po' non dico a stracci in faccia ma quasi Questo è un altro tema delicato ma estremamente cruciale direi strategico per un paese che vuole investire sul sistema educativo è necessario puntare l'attenzione lo dicevamo prima sulle persone e sulle competenze degli insegnanti innalzare la qualità dell'azione educativa-didattica significa puntare a un innalzamento delle competenze del personale significa innalzare anche il livello retributivo delle posizioni dei docenti ecco l'Italia rispetto ad un collega tedesco guadagna più del doppio di un insegnante italiano e questo viene giustificato spesso per un presunto inferiore carico lavorativo sul piano formale bene il nostro sistema educativo ha un impianto tale per cui davvero la mole di adempimenti di istanze sia sul piano formale ma molto spesso è quello implicito che non emerge ma che comunque è richiesto al docente così come a tutta la comunità professionale implica uno sforzo aggiuntivo di ore un impegno che va oltre quella che è la prestazione professionale secondo l'orario di servizio contrattualmente previsto dunque io auspico che ci possa essere da un lato un aumento delle retribuzioni dei docenti italiani dall'altro mi piace immaginare anche che ci possa essere una diversa strutturazione della carriera dei docenti non è pensabile lo trovo veramente contro ogni buon senso pensare che io entro nel ruolo di insegnante e uscirò nello stesso ruolo facendo lo stesso lavoro d'aula io voglio immaginare che ci possano essere delle progressioni di carriera per cui io posso investire me stessa in altre attività sviluppo organizzativo dei colleghi formazione di gruppi professionali coordinamento didattico sono tante le attività che si possono svolgere proprio valorizzando il capitale professionale dei docenti e dunque auspico davvero che ci possa essere una diversa strutturazione e articolazione dello sviluppo delle carriere del personale docento c'è un altro tema provveditore il tema dei rapporti interni a questa filiera provveditore filiera provinciale provveditore preside professori studenti abbiamo già parlato famiglie ecco io le faccio una domanda molto diretta il suo rapporto con i professori o meglio sempre seguendo la filiera con i presidi e con i professori perché non penso che a tempo di parlare con le famiglie ci pensano gli altri ma con i professori e con i presidi prima i presidi e poi i professori ma non per le gerarchie assolutamente il suo rapporto com'è? cioè come si comporta? allora le dico io ho sempre vissuto qualsiasi incarico abbia dovuto ricoprire come uno spirito con spirito di servizio quindi ho sempre predisposto me stessa all'ascolto dei bisogni credo che non ci sia possibilità di far bene se non si ascolta il bisogno di chi ti è di fronte e avere ben chiari gli obiettivi che devi perseguire in relazione a quella corretta rilevazione dei bisogni formativi lo diceva lei prima ciascuno studente ciascuna famiglia ha una propria storia una propria biografia ecco la scuola so che è pesante ma deve farsi carico di questo e non può prescindersi da questo momento di interazione ripeto il rapporto è bidirezionale accogliere uno studente e accogliere l'intera famiglia l'intera storia familiare e farsi carico un po' di tutta quanta la crescita se davvero crediamo che formare istruire orientare significhi portare avanti un progetto educativo integrato con le famiglie è ineludibile oggi valorizzare e sensibilizzare le famiglie rispetto a questa partecipazione intelligente al mandato istituzionale della scuola soltanto insieme possiamo davvero intravenire percorsi di qualità di efficacia e responsabilmente orientare i nostri studenti facendo convincendoli di quanto valga davvero credere nella scuola oggi torno per un attimo sulla riforma del voto in condotta l'articolato in effetti nasce poi ognuno può giudicarne l'ispirazione come meglio crede però l'articolato nasce essenzialmente per porre un freno un limite non soltanto alle aggressioni da parte di qualche studente esagitato nei confronti dei professori ma anche dal comportamento delle famiglie ecco che cos'è che non va che cos'è che l'articolato secondo lei non ha previsto perché è un problema enorme cioè se le famiglie ecco la domanda è questa se un genitore un padre una madre un fratello chi sia continua a dare addosso all'insegnante al professore perché il figlio ha sempre ragione a prescendere dove si arriva abbiamo assistito a episodi di cronaca oggettivamente devastante sul piano dell'etica professionale sul piano della condotta non ci vuole no? allora sì certamente l'intenzione del ministero è quello ripeto attraverso questa riforma che prevede il 5 in condotta che può eventualmente portare alla bocciatura intende innalzare il rispetto quell'autorevolezza che l'istituzione scuola è giusto che riceva dalle famiglie e dalla società tutta io credo che il rapporto fiduciario sia un processo e come tutti i processi richieda una costruzione nel tempo proviamo noi a rendere credibile il nostro operato e credo che costruiremo un patto sociale con le famiglie dove davvero ci sia una sinergia perché c'è un'alleanza educativa che si fonda sui valori allora io credo che questo ovviamente è un processo immanente costantemente perseguito dalle scuole e da tutti quanti i docenti e i dirigenti scolastici e auspico sempre più che si possa con le famiglie incontrare ho dedicato tantissima parte del mio tempo ad assemblee con le famiglie perché vanno sensibilizzate vanno formate vanno informate correttamente proprio perché il contratto formativo il patto educativo di corresponsabilità possa davvero poggiare su solidi basi l'intento è comune puntare all'inalzamento degli apprendimenti e formare i propri figli e prepararli alla vita tra i compiti tanti compiti importanti che ha il provveditore agli studi c'è anche la responsabilità se si può chiamare responsabilità io direi più compito del raccordo e dell'interazione tra l'istituzione scuola e le altre istituzioni dagli enti locali fino se possiamo un pochettino così per estensione fino alle forze dell'ordine ecco per la sua esperienza in questa provincia come siamo messi cioè che tipo di maturità e di sensibilità c'è per far dare a questo rapporto i frutti che poi cerchiamo alla fine allora davvero sono molto felice di poter testimoniare in modo diretto la sensibilità diffusa tra tutte le istituzioni ciascuno per la propria responsabilità anche in relazione al mandato istituzionale che persegue devo dire ha dimostrato e restituito il senso dell'impegno della partecipazione al mondo giovanile e alla vita della scuola sin dal mio primo insediamento ho costruito ma ripeto è stato sempre molto semplice sinergie interistituzionali per cui ho trovato sempre nel prefetto oggi la dottoressa riflesso nelle forze dell'ordine polizia questura polizia carabinieri guardia di finanza e poi anche la provincia il comune ho trovato sempre grandissima disponibilità autentico rispetto ma proprio desiderio di poter profondere uno sforzo sostegno di quello che è il mandato istituzionale della scuola credo che questo sia al centro di una governance territoriale porre la scuola al centro significa avere una visione di sviluppo di un territorio e dunque io contribuirò sempre per la mia parte a incentivare ad incoraggiare incontri tavoli interistituzionali tavole rotonde dove ci si possa confrontare sui temi della scuola e dove si possa accendere il focus sempre sugli studenti e sul nostro mandato salto qualche domanda perché il tempo è praticamente scaduto manca soltanto un minuto e mezzo ma per chiederle una cosa che secondo me è molto importante volevo sentire il suo parere scuola e territorio nella provincia irpina che magari poi è un po' paradigmatica di tante altre realtà questo rapporto come si consuma e soprattutto dal suo punto di vista per l'esperienza che ha gli studenti hanno consapevolezza del territorio in cui vivono hanno conoscenza di questo territorio ne conoscono la storia e se non è così o se non è totalmente la scuola che fa per rincoraggiarli per stimolarli? Beh questo è un altro tema importante anche in un'ottica di competenze per la sostenibilità che oggi come mandato istituzionale diciamo arricchiscono ulteriormente il curriculum della scuola secondo quanto prescrive l'agenda 2030 con gli obiettivi 17 obiettivi strategici quindi credo che la scuola debba sempre più ma lo fa sia nel curriculum diciamo scolastico che in tutti i percorsi exascolastici in tutti i progetti anche di ampliamento dell'offerta formativa cerca di incentivare e di accendere nei ragazzi un'attenzione per il poesaggio per la comunità proprio per come dire far sì che gli studenti possano costruire la propria identità anche attraverso il legame con il proprio territorio siamo tutti un po' distratti rispetto a questo tema dobbiamo tutti quanti lavorare insieme affinché i ragazzi possano attribuire non solo un valore simbolico del luogo fisico ma che possa essere fattore identitario per la costruzione della propria personalità grazie grazie alla provveditrice agli studi di Avellino Fiorella Bagliughe e devo ringraziarla due volte la prima naturalmente anche per un dovere di ospitalità per essere stata nostra ospite ma il ringraziamento più se mi consente un pochettino più profondo anche più significativo è per i punti che ha toccato per come li ha toccato mostrando naturalmente la competenza che è connaturata ma per gli stimoli che ha prodotto anche per qualche consiglio alla classe dirigente politica di questa provincia potremmo dire di questa regione ecco affinché si possa discutere un po' più sulle cose serie e reali e mettere un po' da parte le chiacce ecco la ringrazio per questo delle provocazioni decisamente molto molto importanti grazie ancora arrivederci a voi con i prossimi speciali di Epina TV grazie a tutti grazie a tutti